Una giornata quella di ieri che la provincia di Ragusa ricorderà a lungo a Roma presso la sede dell'Enac la consegna dei decreti di certificazione e di apertura dell'aeroporto degli Iblei Vincenzo Magliocco. I documenti sono stati siglati alla presenza del presidente dell'ente Vito Riggio, oltre al sindaco Giuseppe Alfano, al presidente di Soaco S.p.A. Rosario Di Bennardo e ai numerosi rappresentanti istituzionali degli enti territoriali coinvolti, dei sindacati e dell'imprenditoria. Per quanto possa sembrare un'espressione abusata e perfino banale perché scontata, oggi hanno dichiarato congiuntamente il sindaco Alfano e il presidente di Bennardo è una data storica per Comiso, per la provincia di Ragusa e per tutto il sud-est della Sicilia. La soddisfazione è tanta, almeno quanta l'emozione, è stato perfezionato un atto di estrema importanza per l'aeroporto comisano. Si chiude in percorso ma se ne comincia un altro, non possiamo crogiolarci su questo obiettivo, hanno giunto presidente e sindaco, perché ora è fondamentale portare a compimento tutti i contratti avuti in queste settimane con i vettori e firmare i contratti con le compagnie aeree grazie al sicuro supporto della regione siciliana e della Camera di Commercio di Ragusa. Siamo all'inizio di una nuova fase, un aggiunto, che produrrà sviluppo economico e sociale in tutta questa ampia porzione di Sicilia. L'aeroporto è finalmente una realtà concreta, non più un sogno da realizzarsi. Tocca adesso al territorio difenderlo e svilupparne le potenzialità.